No, l'indizio è giovane, l'entusiasmo ci vuole in questi momenti, soprattutto perché abbiamo dei ragazzi giovani, è entrato in healing, oggi ha fatto bene, l'Ueala l'abbiamo recuperato al 100%, i tre a metà campo hanno fatto bene, Nicolussi stesso è entrato al posto di Locatelli e ha fatto bene, quindi diciamo che c'è un buono spirito, però bisogna continuare così, lavorando, ripeto, su quelli che sono i nostri limiti. Studio. Non può riprenderlo anche perché ormai Allegri lo dicono tutti, l'obiettivo non è entrare tra le prime quattro, ma essere lì a competere per il titolo con l'Inter, tra i suoi giocatori, magari dovete mettervi un po' d'accordo, non lo so. No, no, se andiamo d'accordo non va bene, quindi ci deve essere sempre disaccordo, diciamo che abbiamo superato la quota dei 38, siamo a 40, mancano ancora due partite, ora passiamo un buon Natale e poi dopo prepareremo la Roma che sarà una partita difficile e complicata. Sono sempre bellissime da ascoltare le tabelle di Massimiliano Allegri, eh? No, pensavo a dire se siamo salvi, siamo a 40, siamo a 40. Salvi no, però a 40 punti, vediamo il 7 gennaio quanti punti riusciremo a fare tra Roma e Salernitana e poi sicuramente ci avviciniamo alla quota Champions. Ciao mister, hai già detto te quanto sono stati importanti i cambi, oggi però abbiamo visto una cosa rara, nel senso che al 65esimo avevi già finito tutti gli slot, cosa non ti stava convincendo? Forse si era abbassato un po' troppo il baricentro, perché secondo me l'ingresso di Ling, Weah e Hans Nicolussi hanno molto alzato anche la squadra, ho visto le geometrie di Nicolussi, secondo me hanno portato molto anche ai 1 contro 1 di Ling, che ha portato i benefici in quel momento della partita. Ma in quel momento lì ho tolto i 3 perché Locatelli aveva preso un colpo e è andato dentro Nicolussi, il Ling e il cambio di Kostic e poi a un certo punto Hildiz, che comunque aveva spesso tanto, aveva cominciato a avere un po' di campi, quindi l'ho tolto tutti e tre insieme. Poi Weah, al 65esimo l'ho messo dentro perché in quel momento lì bisognava rischiare anche un'eventuale infortuna da parte di qualcuno, ma c'era bisogno di uno come lui che fresco puntasse, saltasse l'uomo, andasse la cross, quindi ci ha dato una bella mano. Esterni con caratteristiche diverse rispetto a quelli precedenti. L'ingresso di Vlaovic, ne parlavamo prima qui, magari la panchina lo ha stimolato Allegri? No, più che stimolato lo ha rasserenato, perché comunque Dujan, nonostante le tre partite che ha fatto buone, è stato criticato e quindi credo che oggi avesse bisogno di rasserenarsi un po', perché era una partita dove soprattutto l'ultima mezz'ora ci poteva dare una grossa mano e lo ha fatto nel migliore dei modi. Ma Dujan è un ragazzo intelligente, sa benissimo in cosa deve crescere, soprattutto a livello di equilibrio mentale, perché se fa gol è bravo, se non fa gol però fa delle buone partite non è più bravo. E quindi su questo oggi, portandolo come in panchina, si è rasserenato e quando è entrato ha giocato anche una buona partita. Vedi, la chiave di lettura è che non... Quindi la scelta Hildiz è stata solo per rassenerare Vlaovic o gli aveva dato qualche segnale anche settimana, perché anche lui nell'intervista si è dimostrato un ragazzo, noi lo conosciamo poco, si è dimostrato un ragazzo veramente con personalità e molto sereno nella gestione dei momenti. È molto più grande quello che è a livello mentale, no, ieri quando si è fermato a chiesa ho messo subito Hildiz, perché era sostituto naturale, soprattutto perché Miric era tanto che non giocava, non sapevo quanto mi potesse durare e soprattutto in una fase finale della partita, dove c'era bisogno di due punti pesanti, se portavo Hildiz in panchina, poi i due davanti, dove soprattutto l'ultima mezz'ora ci poteva dare una grossa mano e lo ha fatto nel migliore dei modi. Ma Dujian è un ragazzo intelligente, sa benissimo in cosa deve crescere, soprattutto a livello di equilibrio mentale, perché se fa gol è bravo, se non fa gol però fa delle buone partite non è più bravo. E quindi su questo oggi, portandolo come in panchina, si è rasserenato e quando è entrato ha giocato anche una buona partita. La chiave di lettura è che non... Quindi la scelta Hildiz è stata solo per rassenerare Vlaovic o gli aveva dato qualche segnale anche settimana? Perché anche lui nell'intervista si è dimostrato un ragazzo, noi lo conosciamo poco, si è dimostrato un ragazzo veramente con personalità e molto sereno nella gestione dei momenti. È molto più grande quello che è a livello mentale. No, ieri quando si è fermato a chiesa ho messo subito Hildiz, perché era sostituto naturale, soprattutto perché Milik era tanto che non giocava, non sapevo quanto mi potesse durare e soprattutto in una fase finale della partita dove c'era bisogno di due punti pesanti, se portavo Hildiz in panchina poi i due davanti doveva giocare tutti i due 90 minuti. Allegri, ci ha fatto anche lei un bel regalo con il suo show al termine della partita, pochio prima che finisse la partita, perché ci regalerà tanti meme natalizi, lo sa? Ah, non lo so perché... Eccole, le vede? Perché all'ultimo su un fallo laterale siamo messi a parlare con il segnaline e la palla continuava ad andare in gioco, ribattevano, quindi in quei momenti lì non bisogna avere un attimo di disattenzione e poi bisognava uscire verso il difensore che ha messo la palla a mezzo alla fine. Mi aveva già piegato tutto benissimo alle matri, che la conosci molto bene. Mister, io ho ancora un ricordo di una partita con il mister a Lecce, eravamo a Cagliari, sono entrato 20 minuti, ha fatto 20 minuti per chiamare me e Lazzari. E quindi da lì ci ha preso di mira me e Lazzari per 20 minuti e siamo entrati 20 minuti. Quindi se la porta avanti... Perché la colpa era di Biondini che sbagliò a colgo sulla mia porta. Come ve le ricordate? E quindi con qualcuno me la dovevo rifare. Che memoria. Poi te e Lazzari avevate la coppia a me là, lì. Quando entrava uno entrava l'altro, o entravate bene o male. Ne parlavo ieri di Lazzari. Il problema principale però è sempre per gli esterni, che giocano larghi e sono vicini alla panchina in un tempo o nell'altro. Eh, ma almeno li tengono vivi. Li tengo vivi, li tengo. Li tieni attivi. Grazie, allegri. Buone feste, buon Natale.